Ci avviamo verso una fine del 2023 molto delicata per quello che riguarda il mondo bancario. C'è una certa turbulenza di mercati finanziari, viziata inevitabilmente da quello che è lo scenario anche geopolitico internazionale, oltre alle dinamiche interne dell'inflazione. Momento particolare per correntisti, investitori. Chiediamo a Paolo Benedetti, direttore di Banca di Pesaro, cosa può fare una banca in questa situazione. Sì, questo come dicevi giustamente è un momento veramente particolare in cui le famiglie e le imprese devono affrontare una situazione che nell'imminente passato non era prevedibile. Faccio riferimento principalmente all'aumento dei tassi di interesse che hanno colpito i finanziamenti, quindi le famiglie in particolare sono ritrovate ad affrontare una situazione di difficile gestione, soprattutto con questo rialzo che si è riverberato in maniera importante sulle rate di mutuo. Quindi la banca, necessariamente poi una banca del territorio, quindi una BCC, non può rimanere assente oppure non valutare attentamente le richieste da parte dei propri soci e clienti. Quindi sono state messe in campo tutta una serie di iniziative che hanno permesso di fronteggiare questa situazione in maniera un pochino più tranquilla. Quindi siamo intervenuti sia rivedendo i tassi applicati alle famiglie in maniera importante oppure cercando anche di ripianificare quelle situazioni che nel medio termine sicuramente ritorneranno in una situazione, tra virgolette, di normalità. Quindi la BCC gioca un ruolo importante soprattutto nel cercare di affrontare assieme una situazione come che poi ogni giorno intervengono fenomeni di difficile veramente interpretazione ma anche di difficile poi prevedibilità. Sono situazioni che mettono al bivio gli investitori ma anche le stesse banche hanno scelte politiche particolari. In questo momento si parla spesso di spopolamento bancario, anche delle aree un po' più remote. Recentemente siete andati in controtendenza, aprendo un nuovo sportello automatizzato a Monbaroccio proprio questa settimana. Le chiedo se è questa la strada, anche una strada più digitale, per riuscire a rispondere alle esigenze dei territori e a quelli che sono i motivi di sostentamento della banca. Esatto, il problema della desertificazione delle filiali è un problema importante perché molti comuni si sono ritrovati da oggi al domani senza avere uno sportello bancario ma per favore delle politiche chiaramente ragionate da parte anche delle banche di più grande dimensione. Questo non vuol dire però lasciare questi territori abbandonati. Ecco la nostra scelta di aprire uno sportello automatico nella zona di Monbaroccio, semplicemente a Villa Grande, perché questa è una strada quasi obbligata. Quindi il modo di fare banca deve essere un modo nuovo. La digitalizzazione, il relance banking, le macchine self sono sicuramente di un'introduzione che non si può farne a meno. Questo però non vuol dire che si deve perdere quel rapporto di fiducia e di relazione che invece una banca del territorio deve mantenere con i propri clienti. Quindi la digitalizzazione, la tecnologia deve essere necessariamente come sta avvenendo in tutti i settori industriali a supporto dell'attività delle imprese. È un momento anche di chiusura di bilancio annuale per quello che riguarda la banca di Pesaro. Quali prospettive e risultati emergono dalle prime analisi? Sì dai, siamo arrivati anche quest'anno alla fine dell'esercizio. Le proxy danno un risultato economico in linea, anzi in miglioramento rispetto al 2022 che già era stato un risultato molto molto importante. Abbiamo continuato a fare credito e questo si vede nei risultati con un incremento anche dalla voce degli impieghi in un momento così particolare dove i tassi aumentano, qualche un pochino di crisi economica si comincia a sentire, però la banca ha continuato a fare credito e a dare fiducia soprattutto alle imprese, alle piccole e medie imprese nel nostro territorio che poi diciamo che sono la colonna fondamentale del tessuto del Paese Italia.